La prego, gli aiuti mi stanno inseguendo, c'è un tipo con una facciata delinquente, eccola! Quell'uomo, prima mi ha importunato in un bar e poi mi ha inseguita fino qui. Scusi ma ho molto da fare, tanto questa conversazione non ci porta da nessuna parte. Mi scusi lei, dottoressa? Anzi no, un'ultima cosa, poi tolgo il disturbo. Diego alle volte mi fa preoccupare ma è normale, io sono fiero di mio figlio, questo volevo dirle. Non ne dubito, del resto tale padre. No, Diego non è come me, è molto meglio, è un ragazzo serio, posato. Senta signor Giordano, lo sento finito, io lo so benissimo, non le sono mai piaciuto, però questa è una faccenda tra noi, Diego non c'entra, è un'altra cosa, teniamolo fuori. Non mi interessa assolutamente niente di com'è o come non è suo figlio, l'importante è che non stia addosso a Viola, è chiaro? Il problema di Viola è lei.